Benvenuti a tutti coloro che ci hanno seguito nel corso di storia della filosofia antica e nel corso di storia della filosofia medievale, benvenuti anche a coloro che per la prima volta si avvicinano alle lezioni di 29elode.it e oggi di che cosa parleremo? Oggi iniziando questo corso di storia della filosofia moderna parleremo di Guglielmo di Ockham che è considerato l'ultimo filosofo del Medioevo e anche in un certo senso il primo filosofo dell'età moderna. Allora perché parlare di Guglielmo di Ockham ed iniziare il corso con un filosofo che ancora potremmo situare all'interno del Medioevo, almeno cronologicamente perché siamo nel XIV secolo, perché con Guglielmo di Ockham per la prima volta viene finalmente risolto quel dilemma del binomio fra fede e ragione che si era protratto per tutto quanto il Medioevo. Se vi ricordate le nostre lezioni precedenti sapete che avevamo detto durante il Medioevo convivevano due visioni della verità. Da una parte la verità come ci veniva data dalla Autoritas delle scritture e dall'altra parte la verità della Ratio. Questo problema prendeva forma con Scoto e Riugena e poi continuava durante tutto il Medioevo. Ora, Guglielmo di Ockham consapevolmente separa la Ratio dall'Autoritas e ci dice che hanno due ambiti distinti. La Ratio si occupa dello studio del mondo e dei fenomeni, dicevamo, e in cambio la Autoritas si occupa della salvezza delle anime. Sono due ambiti distinti. Quindi, perché iniziamo da lui? Iniziamo da lui anche perché, se vi rendete conto, se pensate un po' a quello che abbiamo studiato nelle lezioni precedenti, avevamo parlato di Roberto Grossatesta, Ruggero Bacone, Duns Scoto. Da dove arrivano tutti questi filosofi? Arrivano tutti quanti dall'Inghilterra. Roberto Grossatesta è di Norwich, avevamo detto l'iniziatore del cosiddetto naturalismo di Oxford, l'università di Oxford c'era già naturalmente, l'università di Oxford e quando avevamo visto le università era una delle più antiche, delle più prestigiose. Ruggero Bacone, che era stato allievo di Grossatesta, anche Ruggero Bacone si interessava dei fenomeni naturali, aveva fatto degli studi sull'ottica e poi c'era tutta una teoria sulla mistica della luce. Duns Scoto, lui veramente nasce in Scozia, dove nascerà anche il grande filosofo empirista David Hume, però anche Duns Scoto quindi è nato nell'attuale Regno Unito. E poi finalmente Guglielmo di Ockham, di cui stiamo parlando oggi, che nasce proprio vicino a Londra. Ockham è appunto la cittadina dove lui nasce e segue gli studi ad Oxford, è esattamente dove avevano studiato anche i suoi predecessori. Ora capite che non è un caso che la ricerca scientifica si sviluppi proprio in Inghilterra. Era nata una scuola, una tradizione naturalistica lì, già durante il Medioevo e infatti da dove verrà Newton? Newton sarà proprio un inglese, questa grande riforma scientifica, la rivoluzione nel campo della fisica con la fisica newtoniana, sarà ad opera proprio di un inglese, era l'Inghilterra il centro degli studi scientifici. Perciò non è un caso se Ockham ha studiato come i suoi predecessori ad Oxford. Allora andiamo a vedere perché dicevamo scegliere di aprire il nostro corso di storia della filosofia moderna con Ockham, che è l'ultimo dei medievali e anche il primo dei filosofi moderni.